All'ordine del giorno dell'Assemblea annuale del Wirtschaftsring, tenutasi ieri a Bolzano, la nomina del nuovo presidente. Per il prossimo biennio la carica sarà ricoperta, come già preannunciato, nei giorni scorsi da Philippe Moser, 43enne di Mon Guelfo, esponente dell'Unione Commercio, che succede a Hansi Pichler, rappresentante dell'AGFAO. Questi due anni non erano facili perché abbiamo l'economia che al momento non va avanti come le imprese lo vogliono. Abbiamo una tassazione molto pesante sulle nostre imprese, due anni proprio difficili. La presidenza per statuto è assegnata a rotazione a una delle sei categorie rappresentate nel Wirtschaftsring. Come detto, nel prossimo biennio sarà Philippe Moser a ricoprirla. Tra gli obiettivi un dialogo più proficuo con l'Unione degli Imprenditori di Lingua Italiana, l'Useb, pochi cenni alla crisi. Anzi, la sua azienda si occupa a Mon Guelfo di Internet e Sistemi IT. La disoccupazione è parola sconosciuta, anzi, in questo settore, dice, si fa fatica a trovare addetti. Questa settimana abbiamo sentito tanto nelle mass media della disoccupazione dell'Alto Adice. Nel nostro settore, nel settore tecnico IT, ma anche matematico, non c'è nessuna possibilità di trovare personale specializzato.